bella a tutti ragazzi siamo qui in un nuovo video come sempre quando c'è l'aggiornamento quindi riavvio settimanale come lo vogliamo chiamare lo chiamiamo partiamo subito a bomba e andiamo a fare tutto quello che c'è da fare quindi in primis vi spiegherò come funziona l'evento che ci sarà domenica alle ore 20 20 e 30 preciso domenica 15 l'evento sarà in torre con una o due scalate adesso non vi so dire precisamente ma il punto focale è che c'è la possibilità di vincere il negozio shop per una settimana e anche 4 won vi spiego subito come basterà rispondere in maniera esatta a questa semplice domanda durante la live su twitch riuscirò a duppare con successo io sarò in torre con un pg davanti dal fabbro farò così così voi votate con hashtag 1 hashtag 2 vi darò un lasso di tempo faccio sì se voi avete votato in maniera giusta rispetto a quello che succederà farete un punto quindi successo se avete votato successo avete fatto un punto continuo così fin quando non finisco tutti i pg che c'ho in torre io upo successo fallito e poi proviamo con l'ultimo vediamo così era solo per testare successo 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 vediamo adesso successo ok ancora con successo più 4 più 5 vediamo se va più 6 ovviamente vi darò sempre il tempo per votare ok abbiamo fatto più 6 anche se non mi serve adesso lo butto a terra riccamente comunque vi ricordo di passare a quella live che mi sono impegnato parecchio comunque come si vincerà il magazzino item shop vi darò un codice che voi andrete inserire qui utilizza codice metterete qui il codice che vi do fate usa e vi da il il magazzino sì il magazzino il negozietto offline per una settimana quindi spero che questa parte sia stata abbastanza chiara adesso passiamo a quello la seconda parte la seconda parte del video che è relativa a come giocare a livello 15 speriamo di trovare qualche metin vi spiego anche perché converrebbe restare a livello 15 e andiamo subito pg a livello 15 allora piccola primessa io uso raramente questo pg però ecco un metin subito vi giuro non mi sono andato a cercare i metin faccio aura non ho grandi boost di danno c'ho un'arma del livello 15 più 9 un elmo più 8 questa vabbè sistemata bene abbastanza bene mi permetterà di reggere uno scutato alla battaglia più 9 quindi dovrei reggere senza problemi i danni non sono altissimi c'ho aura bassa perché comunque sto al 15 il motivo per cui si fanno questi metin è per avere poco tempo a disposizione per fare un dropper con un minimo de senso avere la possibilità di droppare in villo 1 in villo 2 se proprio dovete rischiare ma soprattutto potete farvi parecchi item up livello basso tra cui strari cercatissimi i maledettissimi nastri per capelli rossi che si vendono ad altissimo prezzo ci sono questi billi d'orso il più che servono per ruppare questi a più 7 ricordo per reggere tranquillamente in villo 2 basta l'equip base quindi questi due pezzi più 7 e la corazza del 18 più 7 ora andiamo a vedere dal libro che cosa c'è uscito veleno insidioso per questo momento non ci interessa e lo lasciamo a terra un altro consiglio che vi do se state messi proprio malissimo a soldi vi consiglio di spaccare più metin possibili e raccogliervi le pozze blu grandi e bottegalle perché quelle sono sempre una fonte dei soldi che può essere utile per arrangiare un pochetto il giro che faccio io solitamente è nella parte alta però ci sono altri metin pure nella parte bassa però mi trovo più comodo a fare il giretto qua vediamo un po' se troviamo anche il malvagità che c'è un battaglia laggiù vediamo se sull'isola c'è qualcosa questo potrei droppare perché sto al range massimo di drop quindi 10 livelli per i metin a quanto pare tendenzialmente è 15 quindi per massimizzare il drop dal 15 dropperei al meglio dai metin 30 e superiore però con 10 livelli di differenza in basso si droppa un po' peggio insomma quindi andiamo a spaccare sto metin sono uscite le pozze e non le raccolgo perché non mi interessano ho fatto qualche lilla per la missione del biologo ma le butto a terra perché non mi interessano su sto pg ci stanno un po' di item up per il pet però sorvoliamo allora andiamo a spaccare quest'altro metin battaglia se ne trovano dei metin se ne fanno se fanno velocissimi perché sono delicatissimi e ci hanno pochissimi hp totali se volete tirarvi su le skill vi consiglio di tenelo farvi un droppere al 15 e ci mettete pochissimo e andate molto veloci a fare i metin non c'è nemmeno troppa concorrenza a parte sotto determinati eventi drop dei cavalcature o drop dei particolari item dai metin comunque oltre al fatto della premessa io vi chiedo se vi può interessare un approfondimento sui vari pg e su come li uso questo dovrebbe essere diciamo il primo episodio il pg a livello 15 se vi può interessare io ve lo chiedo gentilmente commentate il video e ditemi sì fallo no non ci interessa voglio maggiori informazioni per questo pg come fare i soldi sto messo così ecco lì fatemi sapere insomma un altro libro vediamo che abbiamo con l'interessante aura della spada abbiamo appena fatto un po' di soldi quindi a parte questo noi adesso ce ne andiamo e cerchiamo altri metin ecco malvagità spero di riuscire a farlo senza problemi ora vediamo un attimo comunque sto con la cavalcatura potenziabile sì con la cavalcatura potenziabile con il cavallo nero che ho fatto tramite l'evento bauli pesca quindi se ponno fa anche le cavalcature semplicemente quindi se ne fate uno ve lo passate tramite magazzino e state a posto a parte questo io volevo dire che se seguite le live su twitch e volete fare un maggiore approfondimento del vostro pg c'è il restauro pg che vi aiuta vi aiuto io a capire quello che farei con il vostro pg in base a come state messi vi do dei consigli voi mi dovete dire ovviamente quello che vi piace più fare quello che tendenzialmente fate e magari vi dico no io non lo farei così farei quest'altro piuttosto per fare più soldi oppure se ti piace fai in futuro quest'altro mi muoverei in questo modo vi do un po' dei consigli mi metto nei vostri panni e vi dico quello che farei io per cambiare il personaggio poi ovviamente comunque 7kk però io me le leggo sul dropper detto questo spacchiamo quest'altro meeting e vi lascio con un'altra piccola informazione molto importante che vedrete a fine video quindi per favore lasciate un commento per capire quello che volete che faccio nei prossimi video perché io ho deciso di farne uno a settimana ogni riavvio settimanale quindi se potete darmi info sarei contento di accontentarvi insomma contento di accontentarvi ho parecchia roba inutile su sto pg però tutto fa brodo vabbè tutti sti libri capo che mai userò penso se continuate sto passo terza aura per finire sto meeting questo è un po' piuttosto è il piuttosto in realtà però questo è l'output del danno ovviamente per voi collana di rame questa è utilissima per voi converrebbe usare l'arma dei giovani eroi questo pg non ce l'ho perché è vecchissimo ormai è da tanto che l'ho creato quindi ho dovuto arrangiare con questa e adesso vediamo un po' che libro esce perf più uno inutile e libro di lania vabbè e allora collana di rame vediamo se c'è hp no è liscia questa pure si potrebbe vende quindi vi consiglio di detenervele poi magari io adesso la butto però non ci fate caso comunque vi ringrazio per la visione e vi lascio all'ultima news bella ragazzi ciao cari ciao cari ci siamo fine video allora chiedo scusa infatti per il fatto del sondaggio a schermo che non faceva leggere il drop ma vi assicuro che era un'aura a parte questo vi volevo dire che solo il 10% dei chi guarda i miei video è iscritta quindi se gentilmente avete voglia di iscrivervi mi fate un favore enorme a parte questo vi ringrazio per la visione e spero che siete arrivati fino a questo punto se siete arrivati a questo punto lasciate un cuoricino alla fine come commento e vi lascio alla prossima e ci becchiamo o su twitch o su youtube bella ragazzi ciao cari ciao cari ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti